Il vertice di Tunisi sulla Libia si è chiuso senza un accordo sul meccanismo per scegliere i candidati del nuovo Consiglio presidenziale e del governo di unità. I 75 delegati presenti hanno comunque concordato di tornare a breve al tavolo delle trattative. Il dialogo politico ripartirà tra una settimana, ma questa volta in videoconferenza, ha detto al termine del vertice l'inviata dell'ONU Stephanie Williams. Dopo una giornata di trattative frenetiche, non è stata raggiunta un'intesa sui nomi del nuovo presidente e del nuovo premier. I principali candidati erano Aguilassale per la Cirenaica e Fatiba Chagat per la Tripolitania. Divergenze anche sulla richiesta di non includere nel nuovo esecutivo transitorio chi ricopre attualmente posizioni di vertice. Resta invece in piedi l'intesa raggiunta qualche giorno fa sulle elezioni che si terranno il 24 dicembre del prossimo anno, in coincidenza con il settantesimo anniversario dell'indipendenza del Paese.